Farmacia Brissan a Sant'Orso risponde con competenza alle vostre esigenze, dalle analisi alla nutrizione e ancora giornate a tema e promozioni. Buonasera e bentrovati al Tg dell'Alto Vicentino. Dunque, come ogni anno, ieri Schio ha ringraziato i volontari della Croce Rossa italiana che operano in città. L'associazione che ha oltre 100 anni riunisce 160 volontari. Ieri, domenica 8 maggio, come avviene ogni anno in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa, Schio ha ringraziato i numerosi volontari, quelli che rendono possibile il servizio di trasporto sanitario in ospedale o a domicilio, l'assistenza sanitaria durante le manifestazioni sportive, culturali e sociali. Un ringraziamento con tanto di cerimonia, pochi metri dal Duomo, dove i volontari hanno mostrato il loro nuovo acquisto, un furgone per il trasporto dei disabili. Donano soprattutto i volontari con le proprie ore per fare servizio, che danno la possibilità di poter poi acquistare i mezzi, perché logicamente con i servizi che facciamo ci acquistiamo i mezzi perché siamo autosufficienti. E ripeto, solo volontari. A Schio la Croce Rossa opera da più di 100 anni e attualmente i volontari che ne fanno parte sono 160. La Croce Rossa è tra le associazioni che più ci dà una mano e col quale ci confrontiamo continuamente proprio per far fronte a tutte le situazioni in disagio. Senza di loro il nostro lavoro sarebbe assolutamente parziale. Ed ora la cronaca, perché è uscito fortunatamente illeso da un incidente stradale spettacolare, l'uomo di 82 anni che oggi era alla guida di una Suzuki fuoristrada. Il fatto è accaduto poco prima delle 10 a Valle del Pasubio, in via Terragnola. L'anziano conducente ha perso il controllo del mezzo nell'affrontare un tornante a destra. L'auto è passata attraverso il bosco e si è fermata capovolta sul tornante successivo. Sul posto, pattugli della polizia locale, alto. Vicentino. E continuiamo con la cronaca perché il passaggio di una pattuglia di carabiniere sul ponte dei Granatieri di Caltrano ha permesso di salvare la vita di una donna che cercava il suicidio. Proprio al passaggio dei militari la donna ha iniziato ad arrampicarsi sulle reti di protezione, ma il capo equipaggio è stato più svelto, afferrando la signora e facendola rientrare dal parapetto. È stata poi ricoverata in psichiatria. Ed ora andiamo a Marano, dove per il terzo anno consecutivo è punzonatura delle biciclette, un sistema vincente contro i furti che addirittura, dice la polizia locale, si dimezzano. Mettono il codice fiscale sulla bicicletta per sapere che è mia. Con la punzonatura i furti dalle biciclette ogni anno calano nettamente, si dimezzano addirittura. A Marano Vicentino la polizia locale, alto Vicentino anche ieri, come avviene da tre anni, ha invitato i cittadini a punzonare le loro bici perché questo sistema, che conferisce una vera e propria carta d'identità, risulta l'unico vero deterrente contro i furti. Viene registrato il nominativo della persona, viene fatta la foto della bicicletta e come numero univoco si tiene il codice fiscale e va immagazzinato in un server che poi è logicamente a nostra disposizione. Poi con questo strumento, sempre con la tessera sanitaria, leggiamo il codice fiscale e fisicamente con quel martelletto lì viene punzonato sul telaio della bicicletta il codice fiscale. Anche questa volta, in una sola mattinata, Marano ha raggiunto un risultato record registrando le oltre 100 punzonature. Così quando la rubano, identifichano il codice fiscale e quindi richiamano i proprietari. La settimana scorsa mi viene potuto regare la bicicletta di 200 euro e la tiene. L'hanno rubata dopo una settimana, perciò sono venuto per qui l'ho apposta. Ed ora vi invitiamo a restare con noi per il Tg dell'Ovest Vicentino. A tra poco. Grazie a tutti.